Chiudiamo questa carrellata tra i bianchi di Irpinia andando a parlare di uno dei personaggi forse più discussi degli ultimi anni nel mondo del vino in un panorama forse neanche soltanto italiano ma europeo se non addirittura internazionale. Stiamo parlando del professor Luigi Moio. Ha scritto un libro, Il respiro del vino, che è una dettagliata riflessione su quelli che sono poi le caratteristiche proprio del vino legato all'aspetto poco aromatico. Ma perché se ne ha parlato così tanto? Perché non ha mai nascosto i suoi attacchi, i suoi umori verso il vino naturale. Ci sono delle motivazioni. Intanto va detto che Luigi Moio ha avuto la possibilità di far parte durante il suo dottorato proprio del team di ricerca in Francia che era focalizzato sull'analisi di quelli che sono gli aromi dello Chardonnay e del Pinot Noir. Quindi stampo Borgogna all'ennesima potenza. Ha avuto la possibilità intanto di confrontarsi con un tipo di viticoltura, un tipo di cultura del vino che sia molto legato all'artigianalità ma anche molto alla precisione appunto e alla consapevolezza. Tornato nel 1994 in Italia, lui originario di Mondragone, dove il fratello porta avanti ancora l'azienda vitivinicola di famiglia, ecco torna nel 1994 e gli viene affidato un piccolo laboratorio proprio per continuare all'interno di quello che poi è l'università, che lo vede ancora docente, quindi la Federico II, quello che è stato il percorso iniziato in Francia. Quindi un percorso di maggior consapevolezza su quelli che sono gli aspetti organolettici, gli aspetti aromatici del vino stesso e da che cosa sono influenzati. Anni e anni di ricerca, quindi di studi, di consapevolezza, partendo addirittura quando aveva 13 anni che si era trasferito da Mondragone ad Avellino per andare a studiare alla scuola di agraria. Ed è proprio questo legame con Avellino che nel 2001 lo porterà con la moglie ad aprire all'interno, nel cuore proprio pulsante della denominazione del Taurasi, un'azienda vitivinicola. Siamo a Mirabella e Clano, quindi siamo proprio nel nel cuore. Però da qui la volontà di andare a mettersi in gioco con più e più stili di vino, ma soprattutto con più denominazioni. Tant'è che se finora abbiamo visto tutte aziende molto piccole, Luigi Moio arriva ad avere una dimensione di vigna che generalmente non considereremo grande, ma che su un territorio molto frammentato di fatto piccola non è. Parliamo di oltre 30 ettari vitati toccando quella che è la zona di Tufo, quindi parliamo di Greco di Tufo DOCG, toccandola a parte di Lapio, stiamo parlando quindi della DOCG legata al fiano di Avellino, fino ad andare ad impiantare nel territorio proprio dove l'azienda si trova, con la cantina che addirittura all'interno proprio dei vigneti, per cercare di avere un tempo di latenza che sia il minore possibile tra la raccolta e il cosiddetto ammostamento, quindi quando si va poi a far partire la fermentazione, che è nella zona appunto dove trova spunto il Taurasi, ma qui si va a lavorare anche sulla falanghina che nel territorio irpino sta trovando comunque un discreto successo. Perché la scelta di andare a lavorare sull'Irpinia? Un po' per quelle che sono le caratteristiche di unicità proprio di questo territorio, territorio quasi montano con tanta biodiversità, i venti comunque dal Mediterraneo che un po' influenzano quelle che sono le caratteristiche del territorio, ma un clima molto più fresco rispetto al resto della campagna, perfetto per far esprimere l'eleganza dei bianchi ed è questa una delle motivazioni per cui appunto viene scelto il territorio irpino per andare a produrre vino da parte del professore. Il professore quindi nel 2001 inizia questo progetto non lasciando niente al caso, quindi impianti moderni, ma la sua produzione viene caratterizzata poi da un qualcosa di un po' più particolare rispetto a quello che abbiamo visto finora, ovvero che durante le fasi fermentative tutti e tre i vini bianchi, poi produce in realtà anche vino rosso, ma tutti e tre i vini bianchi fanno un breve passaggio in botte di l'overe francese, quindi parte della fermentazione viene svolta all'interno di un contenitore ossidativo, che sappiamo che il greco soffre e non poco. In più va detto che il professore più volte si è scagliato contro l'ossidazione dei vini naturali, si è scagliato contro le fermentazioni selvagge, non andando a negare il territorio, ma pensando che la territorialità e il terroir vada espresso in maniera completamente differente. Quindi il suo segreto in realtà risiede proprio nel modo pulito e tecnico di andare a lavorare. Sostiene che il futuro del vino naturale sia quello di avere dietro comunque enologi, biochimici e comunque ricercatori e persone dotate di una cultura, di un background scientifico molto molto forte. Non nega il vino naturale in quanto tale, ma va a negare quelle che sono le derive del vino naturale. Ad ogni modo il suo modo di lavorare molto tecnico poi si traduce in tre vini bianchi dalle caratteristiche identitarie molto differenti tra di loro. Perché se guardiamo il greco, sappiamo un greco è un vitigno che teme l'ossidazione, un vitigno che ha queste caratteristiche di colorazione quasi da vino rosso, nonostante sia un'uva bianca, proprio per la grande presenza di antociani, ha creato il cosiddetto, è nominato così, il bianco d'arl. Il bianco d'arl è appunto un 100% greco, le uve vengono prodotte a tufo, fermentazione come abbiamo detto in parte viene effettuata all'interno di contenitori in legno. Quello che ne deriva è un'identità chiara, un po' opulenta, se dobbiamo essere sinceri, del greco con struttura corpo quasi di un vino rosso. delle note che ricordano il miele, la mela cotogna già in gioventù, quindi quelle note che di solito caratterizzano il greco più nella versione riserva o comunque da lunghissimo invecchiamento. La nota sulfurea c'è ovviamente ma non è la protagonista assoluta, è la complessità degli aromi anche del frutto stesso che poi va a guidare proprio il naso, in bocca al vino è, è un'esplosione di sapore ma poi è ampio, è grasso quasi, quindi abbiamo grande differenza rispetto alle solite espressioni di greco di tuffo. Poi abbiamo Exultet che invece è ottenuto da un vigneto a lapio ed è, parliamo quindi di un fiano di avellino. Stesso processo, stesso tipo di passaggio, la mineralità però che spesso troviamo nel fiano qui viene meno completamente. E sono le note fresche al naso, quelle aggrumate che invece diventano le protagoniste assolute. Anche in bocca troviamo una discreta acidità però il vino tende ad allargarsi tanto al palato, quindi anche in questo caso è un vino che di massa appunto ne ha veramente tanta. Arriviamo poi a parlare della falanghina che invece trova vigna proprio nel territorio aziendale, quindi ci stiamo spostando all'interno di quello che poi sarebbe la reale del Taurasi. Abbiamo un'espressione molto elegante, molto fine della falanghina che diventa anche molto floreale al naso e in bocca molto scorrevole ed è quasi salina. Queste sono le tre interpretazioni magistrali del professor Luigi Moio, poi indipendentemente se uno apprezzi quello che dice, quello che scrive, intanto i trattati che ha scritto sono quasi 300, i libri sono comunque libri di successo che vanno presi in considerazione se non fosse anche per il punto di vista scientifico, però i vini prodotti da Quinto Decimo, quindi a Miravelle Clano, parlano da soli. Sono vini che hanno ottenuto i massimi riconoscimenti sempre su tutte le guide. Un'interpretazione diversa del territorio, forse un po' meno tradizionale, un po' più contemporanea, moderna. Lui dice che l'influenza francese non si fa sentire, però a me piace pensare che invece questa sia un'irpinia che in qualche modo ha subito proprio il fascino della Francia.